Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre Santo che sei nei Cieli, ti ringraziamo perché hai concesso a Santa Virginia Centurione Bracelli, il dono di mettersi generosamente a servizio della Chiesa e del mondo, ella, stretta alla croce di Cristo fu per i poveri madre e conforto. Concedi a noi, per Sua intercessione la grazia che ti chiediamo. Ed imitarla nella ricerca gioiosa della Tua volontà. Per Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno. Sia fatta la Tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.